Oggi andiamo avanti con la seconda parte del capitolo 35. Secondo il pensiero umano, ci vorrebbe un'incredibile quantità di tempo. Ma la tua gente e gli altri sono in grado di andare e venire durante diverse fasi di sviluppo? Non è nella nostra misura di tempo. Noi possiamo andare e venire. È un po' come entrare in una stanza ed avere una diversa atmosfera di tempo in quella stanza. Quasi come un holodeck, un simulatore virtuale che è in grado di estendere il tempo in eoni di progressi. Ma che è solo una piccola pausa del nostro tempo. Quindi ogni volta che tornate le cose sono cambiate naturalmente? Sì. Quindi hai detto che ti stanno dicendo di tornare sulla Terra? Quale fase nel suo sviluppo ci sarà quando ritorni? Riesci a vedere cosa sta succedendo? Molto stress. L'atmosfera è estremamente inquinata. C'è molto dolore. L'atmosfera sta gridando. Le anime stanno gridando in cerca d'aiuto. È per questo che ti hanno chiesto di venire. Stanno arrivando in molti in questo momento. Quindi le cose non sono andate come speravate che andassero. No. C'era dell'interferenza. Altri che sono venuti hanno interferito con l'esperimento nello sviluppo del pianeta. Coloro che volevano usare le risorse per motivi diversi dal piacere divino delle evoluzioni. Questi sono gli oscuri che non onorano l'evoluzione naturale. Il Consiglio non poteva fare nulla per fermarli? C'è un libero arbitrio. Il Consiglio può solo cercare di educarli sui benefici di permettere che il piano si sviluppi. Non possono imporsi perché l'universo dà la libertà di essere a tutti. Come si manifesti l'evoluzione è solo una differenza di opinione. Wow. Qui mi viene in mente gli insegnamenti di Ra nella Legge dell'Uno. Mi ricordo che in un passaggio a Ra gli venne fatta una domanda che era naturalmente aveva la possibilità di avere la risposta da un'entità orientata negativamente. E quindi loro risposero che c'erano delle interferenze per farli capire di cambiare l'idea, di cambiare la domanda perché loro rispondevano solo a quelle domande orientate positivamente. Quindi quando viene fatta una domanda se non sei di quella natura un'altra entità può venire a rispondere perché c'è la richiesta. Quando c'è la richiesta quando c'è la domanda c'è l'offerta. Ecco perché. Quindi se tante anime sulla terra sono orientate negativamente e in cerca di energia negativa allora arrivano altre entità orientate negativamente molto elevate spiritualmente che possono interferire. E questo è permesso perché per il creatore ogni esperienza è valida. ecco perché qui in questo passaggio dice che c'è il libero arbitrio il consiglio può solo cercare di educarli sui benefici di permettere che il piano si sviluppi non possono imporsi perché l'universo dà la libertà di essere a tutti come si manifesti l'evoluzione è solo una differenza d'opinione. Quindi cosa dovreste fare? In molti stanno arrivando da molti altri mondi l'atmosfera deve essere guarita la disperazione deve essere ascoltata il pianeta sta piangendo sta soffrendo c'è molto da correggere. Sapete come riuscire ad aiutare questa volta? Devo pretendere di essere uno di loro c'è la necessità di altri come noi che si sparpagliano tra gli abitanti per fare ciò che dobbiamo fare dobbiamo assumere dei corpi ed essere meno separati da loro questa volta. In questo modo non sembrerete diversi? In questo modo avremo più potere di aiutarli. Essere diversi non porta ad alcun risultato. Quando c'è tutta questa sofferenza c'è troppa paura. Dovete apparire come uno di loro? È più veloce farlo in questo modo. Bene, andiamo avanti per vedere cosa farai come diventi uno di loro. Feci una pausa non mi piace un corpo costringente con un'energia molto pesante non è fluido e i corpi sono pieni di paura genetica e dubbi con incertezza ed esitazione. È difficile metterci dentro dell'energia e andare nei meandri attraverso i programmi e la genetica. Ci sono moltissime distorsioni. Quando sei entrata in questo corpo? Eri un neonato? C'è stato un tentativo da neonato ma fu privo di successo. Sono la frequenza sbagliata per il corpo. Devo cambiare la mia frequenza. Sei stato assegnato a un certo neonato quando stava per nascere? Mi stavo chiedendo come hai deciso il corpo. C'è una scansione della storia genetica del DNA dei potenziali dei genitori e se sembra che ci sia un potenziale passato o contratto attraverso quella linea genetica allora la frequenza di quel contratto coesiste nei genitori. Quindi è più facile farlo da bambini? A volte è più difficile farlo da bambini ma dipende dallo stato emotivo della madre che può bloccare l'attivazione di quel gene. Ma in questo caso non potevi entrare da neonata? Fu un fallimento. La frequenza era troppo pesante. Non riuscì ad attivare la giusta frequenza dentro al corpo e ci fu un aborto. Quando sei riuscita ad entrare nel corpo? Dopo. Ci fu un accordo con un'altra anima. Un altro aspetto dell'anima. Anche quello era un neonato. È come se ci fosse stata un'incarnazione parziale nel corpo non completa per sviluppare il corpo per permettergli di crescere ma per non essere pienamente presente all'interno. Era una preparazione del corpo per il momento giusto. E c'era la necessità di essere pienamente presenti perché la frequenza che era nel corpo doveva essere estratta. e strappa. Questo vuol dire che la tua frequenza era troppo forte? Sì. Avrebbe danneggiato il corpo se fosse entrata prima. Potrebbe aver creato un cortocircuito in alcune delle funzioni basilari nel corpo. I circuiti elettrici, le cariche elettriche, potrebbero essere bruciate o distorte creando delle disfunzioni. La struttura umana e il sistema umano è molto delicato e può essere grandi danni se troppe frequenze fluiscono nel corpo senza preparazione. Troppo energia nel corpo? Sì. Quindi hai detto che era solo una cosa parziale. Abbastanza da mantenere ciò che chiamano un'esperienza ma non completamente nel corpo e non partecipando completamente. Quindi quando sei entrata pienamente o al massimo possibile? L'inizio della pianezza è stata durante l'esperienza della crociera. E qui Dolores dice durante il colloquio prima della seduta Anna menzionò una strana esperienza che ebbe luogo mentre era per mare durante una crociera disse di essere uscita sul balcone della sua cabina e si sentì come se avesse lasciato il corpo. Successivamente si sentì come se fosse diventata un'altra persona. Si chiedeva se quella notte era avvenuto un walk-in. Quindi stiamo parlando del corpo di Anna attraverso il quale adesso stai parlando? Sì. Perché hai scelto quel particolare momento? Era lontana da tutte le influenze che avrebbe impedito o identificato con il passato. Era un campo di plasma che uno chiamerebbe gli oceani e fu facile il trasferimento. Disse di aver avuto una strana sensazione che fosse successo qualcosa allora. Ha ricevuto dei ricordi per aiutarla a comprendere il cambiamento che era avvenuto. Quindi non è ciò che consideriamo un walk-in. Non lo è. Non so se hai un nome per questo ma è come se fosse sempre stata lì ma non fin in fondo. Dico bene? Esatto. È un trasferimento di coscienza, un trasferimento di identità che è stato spostato nel corpo. Ancora una volta a causa della fragilità del corpo e della mente che devono funzionare nel campo planetario doveva essere fatto molto gentilmente e gradualmente. Quella volta che è successo troppo improvvisamente ci fu il rischio di un cortocircuito della disperazione di due realtà sovrapposte. La mente inizia a vedere flash e visioni di altre realtà trasportate dai cinque soli in questo corpo. Disse di aver ricordi improvvisi e non sapeva da dove provenissero. Ovviamente hanno dovuto scaricarli gentilmente fino a questo momento per iniziare a comprendere che lei ha accesso a quell'altro mondo e alla conoscenza. Va bene se adesso ha questa conoscenza? Sì. È per questo che gli è permesso di venire da te? Sì. Disse di aver avuto la sensazione che qualcos'altro fosse dentro di lei e stava guardando fuori attraverso i suoi occhi. Eri tu quello? Sì. È la coscienza dal mondo dorato dal mondo dei cinque soli. Inoltre ha la sensazione di fare rapporto in qualche modo. È così. Perché è stato il tuo ruolo quello di fare rapporto? sì. Ma la maggior parte di tutto questo le crea molta confusione. Questo lo comprendiamo ma non siamo riusciti a connetterla finora perché doveva gestire gli elementi umani, gli elementi carmici del corpo che dovevano essere ripuliti. Sente che c'è qualcosa che deve fare. È importante che sappia di avere accesso a questa conoscenza. Questa è la prima cosa. La seconda è di non disperarsi quando io prendo il comando della visione dei suoi occhi per fare rapporto. Ci sono altri momenti in cui riceve il messaggio di aprire il canale. Ci sono momenti quando è distrutta e devo intervenire. A quel punto diventa consapevole di una terza parte. Adesso che comprende sarà più facile gestirlo, vero? La cosa difficile è non saperlo. Sarà molto facile per lei. Infatti le piace fare rapporto. Le piace partecipare. È in questi rapporti che riceverà le informazioni necessarie per sapere come agire e dove andare e con chi interagire. C'è qualche lavoro che sicuramente volete che faccia? Deve stare con la gente è arrivato il momento di camminare e condividere ciò che sa di parlare ed essere ascoltata. La gente la ascolterà. La ascolteranno finché parla dal suo cuore. Non le daranno informazioni che sono così strane da metterla in pericolo. È qui per aiutare gli abitanti che stanno ascoltando per comprendere che è ora di cambiare. Che gli eteri che trattengono le distorsioni non devono essere quelli di cui si nutrono. c'è un etere parallelo che è a loro disposizione. C'è una parallela atmosfera di coscienza che è a loro disposizione. E possono scegliere da quale atmosfera nutrirsi perché ogni atmosfera ha una matrice di pensiero che è vitale per la longevità della razza. Un'atmosfera è distruttiva per l'evoluzione. L'altra atmosfera coinvolge la grandezza interdimensionale intergalattica conoscenza quantica che sta iniziando a permeare questo mondo. Il suo sentiero è sempre stato quello di un viaggiatore e non è diversa qui anche se in questo corpo. Una cosa che ho dovuto comprendere è la potenza dell'etere della paura perché non si può combattere l'etere della paura se non si conosce le sue molte sfaccettature. Anna disse che a volte si sentiva molto suicida voleva andarsene. Quando si aggancia l'etere sbagliato a volte oscuro l'etere della paura allora si spengono i suoi circuiti di comunicazione e noi dobbiamo intervenire molto spesso per essere in grado di bilanciarla ma ci sono state volte che è stato difficile perfino entrare perché si sente che non è a casa non vuole essere qui e questo l'ho sentito molte moltissime volte. C'è una resistenza a questa frequenza adesso comprende di più che non è accordata la frequenza naturale ma è una missione a breve termine breve termine dal nostro punto di vista anche se a lungo termine dalla sua prospettiva di tempo in questa realtà qui la prospettiva di tempo è lenta è lenta è molto pesante questa è una delle ragioni per cui si sentiva vuota come se non fosse di qui l'appartenenza è un concetto interessante in un certo senso non esiste alcuna appartenenza quando si è uno allora la parola appartenenza il concetto di appartenenza è inappropriato perché tutto è uno tutta la conoscenza tutta l'esperienza uno è connesso uno ha bisogno di appartenere solo quando si sente strano quando entri nella coscienza della sua connessione allora l'appartenere è inutile e qui Dolores dice che Anna non sarà mai sposata e sentiva che non avrebbe mai dovuto farlo ho chiesto una spiegazione ha paura di rimanere ulteriormente intrappolata in altre trapole emotive è importante che lei comprenda di non nutrirsi delle terre della paura quando penso a ciò che chiamano un matrimonio ci sono due se le vogliamo chiamare linee temporali due scelte ed entrambe hanno realtà molto diverse sto guardando a lettera erato se la scelta proveniente da lettere più denso allora il matrimonio per lei offre solo la morte e il matrimonio per lei offre solo una trappola c'è la paura in quella realtà di una permeazione di un intrappolamento di dover rinunciare al suo potere per una modalità una matrice che è stata ammessa in moto in questa razza umana da molto tempo in questo modo assorbirebbe tutto il peso e la pesantezza di quel particolare etere l'altro etere presenta leggerezza e compagnia la comprensione che questa entità è come lei è uno di noi è parte della famiglia ma non da un'altra realtà un altro piano che l'amore che condividono è spirituale e questo di cui lei si deve nutrire è che ha longevità ci gioia e le permette di proseguire nel suo scopo per essere qui è un'amicizia temporale con questa entità per assisterla ed aiutarla in questo non c'è alcuna paura c'è molta gioia c'è molto servizio e c'è molto cameratismo hai bisogno di un amico con cui giocare è stato un viaggio lungo e pesante per lei stavi parlando dei due livelli di etere questo è forse un equivalente di ciò che mi hanno parlato relativo alla vecchia terra e alla nuova terra sì la vecchia terra è quella con le illusioni di paura e tutti i disastri la vecchia terra se ne sta andando è quasi come un buco nero sta collassando su se stessa è triste è corrotta è la vecchia terra è piena di dolore i cieli gli eteri l'atmosfera piangono tutti nella vecchia terra c'è moltissimo dolore parte della nuova terra è stata modellata in base al pianeta dorato dai cinque soli ma ci sono molti altri mondi che contribuiscono alla conoscenza immagini risorse alla nuova terra è un paradiso è un gioiello è facile per Anna accedere a quella frequenza perché ne ha ricevuto delle immagini sa che è reale non ha compreso che è un battito cardiaco quantico da dove proviene è un bene che sappia della mia presenza è un bene che sappia essi ricordi del pianeta dorato dai cinque soli che comprenda di trovarsi davanti ad una progressione che è venuta qui in questo momento per una specifica ragione e che è di vitale importanza per lei tenere a mente la nuova terra l'altro etere l'etere di luce e permettere a quegli immagini di permeare e disolvere le vecchie immagini e con questo si conclude questo trentacinquesimo capitolo io mi fermo qui vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto domani con un nuovo capitolo ciao a tutti grazie